Per ordinare, sicuramente ho comunque fatto un vero professore, perché comunque la stanno era uno stupido in un solo per prendere la distanza, questa gara ci mi si sa, non c'erano di dotare, quindi mi ha dato una attenzione. Sì, non capisco l'obiettivo di prendere la Italia, sicuramente, però in questa gara non la spettavo, pensavo comunque di uscire nei 5 misti che li farò tra 3 giorni, però non la spettavo. Devo ascoltare anche Valentino Manfredonia che è pronto, invece, per quanto riguarda la borsa e la sua semifinare, il video massimo. Valentino, non so tutto come stai fisicamente, perché fatti il viso, insomma, seri, del tutto del Presidente. Sto bene fisicamente, però questo è un archivetto che è proprio, fa un po' più al dottore domani, che è il risultato dell'Ucraina, e abbiamo visto, con il fordello, un'arriata di un'altra, diciamo, però, sto passando domani, le sue caratteristiche, cosa che mi ti devo dire. E' una verità, no? Dissi, invece, l'Ucraina... ... ... ... ... ...